Molti principali del conflitto, l'emergenza umanitaria. Ieri ne abbiamo fatto cenno, vertice dei ministri dell'interno dell'Unione. Torneranno ad incontrarsi giovedì a Bruxelles. La richiesta ai Paesi membri è quella di far scattare il sistema di protezione temporanea per chi fugge dalla guerra. Potrebbero essere milioni di persone coinvolte, secondo alcune stime. Non ci tireremo indietro, afferma il nostro giornale la ministra Luciana Lamorgese, che abbiamo intervistato dopo il vertice di ieri. C'è stato un ampio sostegno tra tutti i ministri sull'applicazione della direttiva per la protezione temporanea degli sfollati ucraini. Quante persone potrebbero arrivare? In Italia abbiamo 250 mila ucraini stabili, integrati. Sembra che ne sono usciti dal Paese 300 mila. Se dovessero arrivare i numeri che sono stati indicati come previsione, anche il nostro Paese, non fosse altro come ricongiungimenti, potrebbe essere un numero molto elevato. Cosa si farà e qual è il piano? Certamente non faremo mancare il nostro impegno, tanto più che parliamo di un popolo che sta in guerra. Faremo una cabina di regia, ma giusto per individuare le aree dove poter poi collocare. Teniamo conto che molti andranno nelle case dei parenti, quindi è possibile che poi il problema venga ridimensionato. Ma comunque, come abbiamo sempre gestito nell'emergenza, ugualmente non ci tireremo indietro. L'Europa in ogni caso sembra muoversi compatta su questo punto. È un cambio di passo notevole. Non faremo mancare il nostro apporto anche agli altri Stati membri più vicini alle zone di conflitto. Questa è l'Europa che noi abbiamo sempre voluto, un'Europa solidale, punto centrale della nostra agenda europea. Bruno Sokolovic, GR1